Buonasera, ben trovati. È un nuovo collegamento che facciamo dalla sala stampa della provincia autonoma di Trento. Qui nel palazzo di Piazza Dante è terminata da poco la riunione della Task Force Provinciale sul coronavirus. Come potete intuire, l'argomento principale è il piano straordinario di vaccinazioni, la maratona vaccinale che inizierà tra pochi giorni, sabato 4 dicembre. Qui con noi ci sono, oltre al Presidente Fugatti e all'assessore Stefania Segnana, anche il Dottor Ferro e il Dottor Giancarlo Rusciti. Allora, Presidente, cominciamo da lei. La macchina organizzativa è in moto, è complessa, ce ne rendiamo conto, però l'obiettivo è quello di raggiungere le 100.000, almeno 100.000 vaccinazioni in 5 giorni. Sì, buonasera. Macchina organizzativa sicuramente complessa, quindi che si sta mettendo in moto. In questi minuti, nei prossimi minuti, si può cominciare a iscriversi sul centro prenotazioni classico, quello che è sempre stato utilizzato dai trentini. Lo diciamo subito, non è un click day, quindi anche qualora ci fosse una forte affluenza che mette a rischio la prenotazione immediata, non è un click day e quindi ci si può prenotare dopo 2 ore, dopo 5 ore, dopo 6 ore, ci si può prenotare domani. Quindi diciamo che non c'è fretta per la prenotazione, perché le dosi ci sono, quindi l'invito che facciamo è di non ammassarsi all'ora X, perché è chiaro che il sistema, come è facilmente comprensibile, rischia di essere messo sotto pressione. Nonostante noi siamo sicuri che saprà gestire anche questo evento straordinario come ne ha gestiti fin dall'inizio i tanti eventi straordinari che hanno contrassegnato questo periodo per la sanità trentina. Quindi la volontà è stata quella di mettere a disposizione 5 giorni dal 4 di dicembre al 9 di dicembre, dalle 6 la mattina a mezzanotte, con la volontà di fare il numero maggiore possibile di vaccinazioni. E' chiaro che ci saranno problemi organizzativi, ma questo è facile da comprendere, per risolvere i problemi organizzativi bastava sposticipare la cosa di 15 giorni, avremmo sicuramente avuto più tempo per farlo, avremmo sicuramente organizzato meglio le cose, avremmo sicuramente spiegato meglio ai trentini tante altre cose, ma avremmo perso 15 giorni. E quindi i 15 giorni che avremmo perso, ipoteticamente, se lo avessimo fatto più avanti, noi abbiamo pensato che è giusto guadagnare i 15 giorni, pagando un prezzo sicuramente di difficile messa in moto della macchina, però avendo il vantaggio di riuscire prima a mettere in sicurezza la parte sanitaria delle persone trentine che vorranno andare a vaccinarsi. Quindi noi invitiamo ad iscriversi sul centro prenotazioni per fare la terza dose, invitiamo anche chi ancora non ha aderito nemmeno alla prima dose a fare la prima dose, sappiamo che questo è un tema ovviamente di difficile impatto e quindi ha spiegazioni più ampie, però noi invitiamo tutti coloro che ritengono di iscriversi a questa iniziativa. I centri vaccinali saranno 19, quindi ci sarà il centro vaccinali, sono quelli sostanzialmente che già c'erano, che tutti i trentini hanno conosciuto e che i trentini ricordano che hanno funzionato bene quando sono andati a vaccinarsi, perché questa è stata la considerazione comune da parte dei cittadini trentini. Quindi ci sarà quello di Pergine, quello di Borgo, quello di Tonadico, quello di Cavalese, quello di Saint Jean, quello di Cless, quello di Malè, quello di Mezzalombardo, quello di Arco, quello di Tione, quello di Trento, si aggiunge quello di Lavis presso la protezione civile e quello di Rovereto. A questi si aggiungono i centri vaccinali presso gli ospedali, quindi a Trento, Rovereto, Cless, Arco, Borgo e Tione. Quindi 19 centri vaccinali che si apprestano ad organizzare questa maratona vaccinale che riteniamo sia importante per la sanità trentina. Grazie Presidente. Stanno arrivando delle domande, ma ne raccolgo un po' che prima di rivolgerle a tutti voi, perché chiederei al Dottor Ferro di entrare un po' più nel dettaglio sui momenti organizzativi che riguardano il sistema di prenotazione informatica, su cui dei cittadini ci hanno scritto, stanno scrivendo anche adesso, lamentano che ci sono dei problemi. Poi posso immaginare che sia anche dovuto al fatto che si sta mettendo appunto una macchina che apre tantissime prenotazioni. Comunque come stanno le cose? Ovviamente stasera apriamo, anzi fra pochi minuti si aprono queste agende che riguardano questi cinque giorni. Ovviamente inizieremo a scalare. Quindi mano a mano che si riempiranno, si apriranno ulteriormente posti. Quindi potete stare tranquilli che ci saranno posti per tutti, anche perché il target che noi avevamo indicato e proposto riguarda proprio tutti coloro che dovrebbero fare la terza dose, che quindi dovrebbero aumentare le loro difese immunitarie e quindi bloccarsi nei confronti di eventuali ulteriori contagi e soprattutto ricoveri. E poi abbiamo quel target importante di più di 70.000 trentini che potrebbero fare la prima dose e su cui veramente c'è un appello fortissimo da parte della sanità per aderire a questa grande nuova opportunità. Fino alle 21 abbiamo prenotazioni, le avremo anche dopo le 21, però sarà anche possibile per quelli che lo decidessero all'ultimo momento andare anche senza prenotazioni dopo le 21 a prenotarsi. Per ultimo devo dire tecnicamente che abbiamo preferito utilizzare Moderna perché mezza dose di Moderna per tutti coloro soprattutto che avevano fatto Pfizer, in quanto essendo un vaccino eterologo ed avendo anche una mezza dose dà una risposta immunitaria più alta, più contenuta nel tempo e ci aspettiamo anche con minor effetti collaterali. Questa è la nostra scelta. Pfizer preferiamo utilizzarlo come per le prime dosi. C'è una macchina organizzativa notevolissima. Ringrazio anche i sindacati della dirigenza medica che oggi ho incontrato, che hanno dato questa disponibilità e anche tutto il mondo, diciamo, dei professionisti sanitari, nei loro presidenti, ricordo il presidente dell'ordine dei medici, degli infermieri, dei farmacisti, ma anche quello dei veterinari. E tutti, diciamo, abbiamo avuto la solidarietà di tutte queste figure professionali che ci daranno una mano per questo sforzo titanico che farà la sanità trentina. Adesso l'importante è l'adesione. È fondamentale creare questa argine e quindi toppare questi buchi che si stanno creando e che fanno entrare piano piano dell'acqua che sta salendo in Trentino. Dobbiamo bloccarlo. L'unica maniera per bloccarlo è fare questo argine in maniera il più veloce possibile. Questi cinque giorni che dovrebbero aiutarci quindi a ricostituire le difese del Trentino per riuscire anche a farci fare delle vacanze e una prossima stagione invernale più sicura. Ecco, mentre attendo un cenno dall'assessore Segnana o dal dottor Usciti, se devo aggiungere qualcosa, prima di dare la parola al presidente Fugatti, una precisazione, dottor Ferro, sui centri negli ospedali, Rovereto e Trento. Ci chiedono se è possibile specificare dove e come. C'è anche una domanda che riguarda la terza dose per il personale sanitario. Concentrandola in pochi giorni, chiede il collega, non c'è il rischio che poi ci siano per malesseri delle assenze? Rispondo velocemente. Gli ospedali si mettono in gioco con due postazioni per Rovereto e Trento e per una su tutti gli altri presidi ospedalieri. Quindi anche l'ospedale, oltre a fornire dei soldati che lavoreranno nei centri vaccinali periferici, aprirà le porte alle vaccinazioni. Non ci aspettiamo sulla terza dose grosse problematiche e ne abbiamo già, la gran parte del personale è vaccinato. Io stesso mi sono vaccinato, c'è, può esserci qualche problema al braccio, eccetera. Ma non abbiamo avuto delle ripercussioni rilevanti da dover pensare che questo porterebbe, diciamo, a delle problematiche per il personale per queste terze dosi. Ecco, allora, sentiamo il Presidente, però intanto le dico che nel dibattito che vedo su Facebook ci chiedono non bastavano le due dosi e l'altra cosa si serve di sdire per riprenotarsi sulla maratona vaccinale. Ma intanto sentirei il Presidente, prego. Sì, stamattina, sempre per continuare la sensibilizzazione di tutti gli enti istituzionali e i soggetti istituzionali interessati, l'assessore Failoni ha incontrato i sindaci, ha incontrato le categorie economiche, ha incontrato le APT, perché dobbiamo fare il massimo di coinvolgimento fra tutti i soggetti istituzionali e trentini per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Ecco, poi una domanda di carattere sindacale, però chiederei al Dottor Rusciti di completare i temi che ho accennato poco fa. Sì, buonasera, ma come è successo la scorsa primavera, quando abbiamo allungato il tempo tra la prima e la seconda dose, l'obiettivo della terza è proprio quello di potenziare il nostro sistema immunitario. Purtroppo, con l'avanzare dell'età, è normale che il nostro sistema immunitario reagisca più lentamente, quindi riuscire a potenziarlo, soprattutto per coloro che hanno dai 50 in su, abbiamo visto che è diventato un valore importante. L'esempio l'abbiamo avuto nel mese di ottobre, quando, grazie anche alle nostre RSA, abbiamo vaccinato tutti gli ospiti con la terza dose e abbiamo visto che in questi 40-45 giorni la positività di queste persone è stata talmente bassa che è rilevante. Siamo convinti quindi che la terza dose serva e anche, come diceva il collega Ferro, una metà fiala serve a rendere ancora più protetti per i prossimi 5-6, speriamo anche 9 mesi. Grazie.